Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Riontrip e bentornati in un nuovo episodio di Dredge, siamo ancora qui per continuare la nostra avventura Sì, ero rimasto qui, quindi ragazzi sono andato a fare un po' di giri Il mercato del legname, un po' di stoffa, adesso andiamo a vedere se riusciamo a metterlo da qualche parte Allora, diciamo che possiamo anche metterlo... dove che era? Nel cantiere? Assolutamente no Aspetta, il mio magazzino... allora è questo, yes Vediamo se riusciamo a fare il nuovo scafo Eh no ma manca sta... Aspetta Allora il legname c'è Questo ce l'abbiamo Manca questo Lei però dovrebbe venderlo No Dov'è che vendeva le robe? Qua? Sì 500, mazza, non ne abbiamo abbastanza Ok Vediamo di fare una pescatina così al volo Molla gli romeggi Ah per forza raga, se no tiriamo sulle nasse Oh granciporro eh Attenzione Granciporro Vai Magari un po' di granchietti se ce li prendiamo Sarebbe neanche male Quante ne ho messo giù di ste robe? Non mi ricordo neanche più raga Vediamo un po' qua Questo Ah no questa non era una... Ups Non era una mia nasa questa No ma ne ho messo giù una solo Possibile? Aspetta un po' No Ne ho messo giù una solo allora Vabbè Vediamoci questi Abbiamo questi Cioè secondo me non ce li paga neanche tantissimo Ah una nasa solo eh Io che pensavo di averne messo giù di più Ah ma forse l'abbiamo messa giù solo per provare questa Perché era più grande Ah non saprei Vabbè prendiamo questo Ci siamo Ok Eh problema di spazio che spero di risolvere col nuovo scafo Ok E vediamo Dove andiamo già subito a vendere Intanto dobbiamo aspettare la notte Perché mica ho Sono riuscito a beccarlo quel granchio Cioè non quel granchio Quel Il pesce che voleva lei Oddio magari il pesce che voleva lei Forse un'idea ce l'ho Però Aspetta un attimo No La tizia Cioè sì La tizia No Perché Volevo dire Boni Boni Allora il mio magazzino mercato del pesce Andiamo a venderlo Quanto ci facciamo questa barbonata Eh cento Allora intanto lo possiamo anche acquistare Intanto direi di acquistarlo Quindi facciamo Cos'era Baggino galleggiante No Carca miseria non mi ricordo mai dove cazzo È nel cantiere vero Sì Questo È questo È questo È però Ammazza signora Poi Andiamo al cantiere Raga mi sbaglierò Sempre Allora è il bacino galleggiante Questo Ok Ok questo Vai Sto cazzo Mancano altri 500 Madonna Ok E quanti cazzo di giri devo fare Ma questo qua è oceanico? No Questo è sempre costiero Quindi Proviamoci Solo che O io vado a smontare La mia La mia rete Se no Non Non si spiega Sta cosa Perché Scusa Ce ne sono ancora Sì Eh Piglia lì Ah vedi C'era quello Un mutabile Ok Un altro Magari Sì solo che Cento alla volta C'è Allora Vediamoci Questi piccoli Erano questi Quelli piccoli No Questi sono uguali Agli altri Vabbè Vediamo Eh vabbè Uno ce ne sta Esaurita addirittura Qua E' questi Quelli piccoli Forse sì Ah cazzo Aspetta Dai pesca Pesca No Sono sempre Sti cosi Vabbè Eh Ci accontentiamo Allora Andiamo a vendere Signora Signori Ma cazzo Ma Accendi ste luci Che li spente Ok Eh Dov'era qua Vai Poi magari Facciamo anche Una dormitina Perché Allora Va bene Eh vi taglio Ok ragazzi Siamo tornati Che adesso Dovrebbe bastare Vediamo di vendere Sì Pelo Pelo Vabbè Allora Sì ora Ci diceva Eh Bassino galleggiante Nuovo scafo Però dai Oh Due slot Oh Allora Adesso Quattro slot in più Magazzino Vai Vai Questo no Ok Questo sì Ah mi mancherebbe proprio un pestino di legno Vabbè Poi ci guardiamo E 300.000 Vabbè Poi Lo faremo Allora Eh Ho perso tempo Quindi ragazzi Riposo Perché vorrei arrivarci proprio di notte Là Eh In quel Posto Anche se Vogliamo gli vermeggi Allora Anche se Penso di aver capito Cioè In teoria dovrei aver trovato qualcosa Qua dentro A parte che c'è Un cristone che ci spacca la barca qua Però Però Noi qua siamo Esattamente qui Vabbè Cioè È inevitabile Io non Vediamo un po' Qua c'è del legno Ah no C'è Della stoffa Va bene Dall'indue Ci ho pure spaccato il motore Vabbè Dovremmo anche riparare la barca E via soldi Eh non è semplicissimo E cercare forse di fare soldi nella zona iniziale dove C'era proprio meno Meno insomma Preoccupation Questo no E' un po' Un cazzo Allora Avevo trovato qualcosa Muovate la pesca Dov'è Eh voi direte giustamente Ah però questo è È grossino Eh Però forse adesso con lo spazio in più Allora aspetta un attimo Eh Fammi vedere Lì posso metterlo Qui Questo posso metterlo qui Qua c'è il motore quindi no Eh no Sono fregato Ok Vabbè per un altro almeno Ci sta Vabbè posso fare così Ce ne sta anche un altro Guarda Ok Niente siamo pieni Vabbè Qua c'è sto cacchio di relitto Che Avevo trovato un Qualcosa da dragare E penso magari fosse Tipo lo stemma di famiglia Che voleva il tipo Allora bacino galleggiante No mercato del pesce Vendiamo sta roba per favore Perché devo anche giustare la barca Giustamente Eh 98 Eh però la barca Quanto mi costa giustarla No Cantiere Se Ci abbiamo perso Vabbè Eh niente Andiamo da nessuna parte Mi sa qua Allora Fammi vedere una roba Se io Vado qua E poi giro Tipo A destra Che succede Cioè che c'è All'intanto qui E mi dai il pesciozzo Quello prepotente Dov'è Dov'è È chiaro no Allora Eh qua c'è Non si vede una mazza Così però Vabbè Vabbè raga io sto Chi se ne frega se Ci ammazzano Però Vorrei vedere Dove cazzo era Sto Sto schifo Era qua Giro al prossimo Bivio A destra Allora Di qua E qua ci dovrebbe essere La cascata C'è il mio senso Di orientamento Schifoso Com'è Dovrebbe essere qua Sì Allora Ho pescato qualcosa Di strano Non era qui Poi ci sono quei serpentoni Che non so Bene cosa sia No Oh cazzo E qua Stemma di famiglia Però Mo' io dove cazzo Mi metto la roba Abbiamo anche Ste Scusa Non posso Ah no Abbiamo anche Ste rotoli di stoppa Adietro Vediamo un po' Come posso fare Così Perché siccome Questo stemma Di famiglia Io adesso Non lo voglio perdere E poi Vorrei anche Pescare Sta roba qua Che non ho capito Che cazzo è Voglio solo Vedere Che roba è Sembra tipo Un'anguilla Ah Il grongo Ah ma Il grongo Era quello Che voleva La tipa Aspetta E Aspetta Come lo metto Allora Occupa Cinque Spazi Eh Me lo devo portare Raga Me lo devo portare Sto coso Cinque Spazi Come posso Fare Merda Non lo posso Smontare La luce No Sennò Butto Tutto Questo Che mi Infetto Che te Frega E ci Appiccico Questo Però come Cazzo Una soluzione La devo Trovare Però Una soluzione La devo Trovare Allora Così Eh no Ma mi servono Tre spazi A meno che Non lo giro Ok Perfetto Allora la tipa Adesso il grongo Ce l'abbiamo Cos'era Eh no Eh no 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 Giorno Se è fatto Giorno Se non arriva Quello Spaccare Le palle Dovremmo Eserci Devo capire Però dov'è Il cantiere Aspetta Dov'è La mercantessa Che sia Quella Ok No Tracca Tracca Allora Adesso Mercato del Pesce Non gli posso Vendere Il grongo Però E neanche Questo Quindi Gli posso Vendere Solo Questo E magari Nella rete Mi vendi Un po' Di ste Robe Ok Non saprei Se aggiustare La barca Vale la pena O no Ma Vabbè Molla Gior Maggi Chi è Che voleva Sta roba Forse C'era La tizia Qua Che voleva Doviamo Qui Andiamo di attraccar qua Era qua Questa Abitante di Ingre Eh ma non è in putrefazione Credo Aspetta Fammi vedere Eh no È fresco Lei lo vuole in putrefazione Quindi se vedete che faccio Io prima Vado dal No vado dal Molla Gli romeggi Io prima vado Da sto tizio Gli do lo stemma Di famiglia E intanto Sto cacchio di pesce Andrà male Allora Eremita Eh questo è lo stemma Della tua famiglia Hai trovato Non avrei mai pensato Di rivedere Questa meraviglia Ora però Ho un altro favore Da chiederti Lo porteresti a Ingrid Da mio fratello Digli che suo fratello È mortificato E vorrebbe tornare a casa Ma cazzo Eh Vabbè All'eremita Cos'è che ci diceva Anche Sotto di qualche naufragio Un abitante Che teneva la barca Ormeggiata sui piedi Della scogliera Finché alcune erano Ci cadute Dall'altro La copriera La feceva affondare Rimane È devastato La perdita Come tutti Eh Peraltro Era una bellissima barca Decorata Tutti i cemeli E recolto Nei suoi viaggi Quando la marea bassa Riesco ancora A vedere i resti Dell'albero Fare capolino Tra le onde Eh Cos'altro vuoi sapere Cosa sta succedendo In queste scogliere Vengono consumate All'interno Da quel serpente Ripugnante L'hai visto Sì Ma sotto le palle Fino Finora Ma poi è iniziato Di vorare I nostri fondali Aprendo voraggini Sotto le nostre case Ok È stato come Vivere in un incubo Svegliarsi di notte Suono in una creatura Che sta risciossa Tutto a terra Sembra di aver Spostato l'attenzione Verso altri lidi Ok Va bene Dimmi di più Su questa creatura Sta scavando i tunnel Attraverso la base Deve scogliere Si vedono Bucche gigantesche Che lascia appena Sotto la superficie Spesso facendo Sotto le frane Quindi se hai intenzione Di attenzione Sta allerta Eh ho capito Ma Se dovesse vederti Beh dovresti Riuscire a seminarlo È piuttosto lento Ah pure C'è perché tu riesca A navigare tra i varchi No non è lento In realtà è più veloce di me Eh Nah In realtà è più veloce di me Sarà anche lento Ma Non mi sembra Lentissimo Eh Vediamo se Tanto Facciamo andare a male Un po' di roba qua Niente ancora fresco Sta roba Vabbè pesca ancora Che ti devo dire Passerà al tempo No Ma raccogliamo sti pescetti Che te frega Allora Mi stiamo messi Però fresco Cioè l'unico Cosa che non va mai a male L'abbiamo pescato noi È strano Vai tanto che ci siamo Scusa No Vediamo un po' qua Se sono riuscito A beccare Il legno No il legno Non l'abbiamo beccato Raga Quindi niente Però quasi quasi Io posso provare A mettere Qualcosa qui Dal magazzino Che te frega Tanto ormai Tanto ormai Allora Ok E qui Che cavolo ci metto Ci metto sta roba Se Vorrei anche provare A mettere sta roba E E E E Questo Ok Adesso Qua stiamo Qua è solo legno Ci manca Ok Va benissimo Allora Intanto che ci siamo Guarda Mando questo Mando questo al magazzino È buona Molla gli ormeggi E mo Sto cosa Sarà andato In putrefazione Spero No Allora Lei lo vuole in putrefazione Vediamo un po' No Vabbè Ma aspettiamo Tu 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 Ah Quanti pesci Che ti ho preso E Qua che c'è Altri pesci piccoli Spero Ah no Questo qua è quello Massiccio Quello da 4 Si Ok No Basta Non so dove metterlo Eh Non so dove metterlo Aspetta Allora Stantio Vabbè Aspettiamo Tu 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 Oh però non bisogna fare la cagata Di vendere Anche quello Allora Mercato del pesce Rete Ok Un po' di soldi Adesso ce li abbiamo tirati su Ehm Dormi Non andrà male Riposo fino all'alba Ok Mollo gli ormeggi Come ti ammessi Imputrefazione Ok Vamos Allora Vai Signorina Ce l'ho Vai Ecco il grongo stagionato Ok Tra benissimo Posso offriti una piccola somma Come ringraziamento 150 Mazza E buon viaggio Valiniere in pensione Tom Ehm Lo stemma Ah me l'ho detto che producevi esplosivi Puoi ben dirlo A volte la carcassa andavano fatte a pezzi Ehm Non era il metodo più efficiente O più piacevole ma funzionava E un po' che pensavo di tornare in attività Potrei riuscire a mettere insieme qualcosa di abbastanza forte Per rimuovere Quei cum di macerie sulle scogliere Ah però chissà Ormai non sono più in pieno delle forze A me gli esplosivi potrebbero far comodo Va bene ci penserò su Ma non ti provento niente Qualcos'altro Ehm Questo stemma qua E' tuo Santo cielo Non lo vedevo da Da Quindi l'aveva preso lui Lo sapevo Ehm Tuo fratello è mortificato No dai In guai seri Ci credo Magari potrei liberare Mmm Ok va bene Può restare nella mia vecchia bottega Almeno per il momento Ma avrò bisogno di tempo per sgombrarla Nel frattempo forse potresti fare qualcosa per me Vedi E' da un bel po' che cerco di rimuovere alcune macerie Drei varchi delle scogliere Per creare una scorciatoia con gli esplosivi Sono riuscito a sistemarvi una carica Ma le scogliere sembrano particolarmente precarie E quel giorno Non me la sono sentita di farla saltare Devi saltare le carti là e farla esplodere Non è lontano da qui Ne sei presso Ho posizionato Oppure bagni di regiale Non puoi sbagliare Ok No si Ehm Vabbè Ma niente Ci vediamo Ma me le ha dati? Ehm No Quindi come li faccio Devo solo andare là? Adesso sì Andiamo Vabbè intanto Signori Finalmente andiamo avanti con un po' di trama Ehm Cerchiamo di Andare qua Ok Ceremita Vai Ha detto che può andare a casa Oh Ma come? Ma non mi ha detto che Gli Aspetta Aspetta Questo è sbagliato Raga Sbagliato zona No è qua Cioè in pratica Lui mi ha detto che Il fratello È il legno È il legno Però mi serve Capisco tutto Ma il legno Ok Allora il legno Il legno Il legno Il legno Il legno Dove cattarola Lo metto No mi serve No mi serve No mi serve raga E perderemo E perderemo No 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 Vabbè Non ci becchi Il tizio Eh qua c'è il pescetto Non lo posso portare Dritto Destra Sinistra Ok No 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 Dormi No 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 Ma che sei scemo Allora Riparto eh Tranquilli che Che cazzo sta succedendo Scusate Perché si è fatto Tutto Oh cazzo è qui È qui È qui È qui Madonna Dai Ok Ciccio A posto eh Non ecco deve stare Sono saputo Che le scoglie Non ci siano Crollate in testa Nel frattempo Ho finito di sgomberare Ho detto a mio fratello Che può tornare a casa Ah ecco vedi Dobbiamo fare prima Dobbiamo fare prima Quella roba là Allora Questo qua lo mettiamo via Questi via subito Prima di perderli Ok Ok Eh Vado a dire al fratello Che può tornare a casa Eh Sì Vediamo un po' Allora Fratello Puoi andare Ma poi Tutto risolto Fatto Fatto Vai Parca mina Vai Se si rivede Che posso fare per te A tuo fratello Ti perdono Ho trovato un posto Dove sta Beh bene Davvero Mi hai tolto Un grandissimo peso Dallo stomaco Ok Un fratello Tanto vecchio Che ormai L'avevo quasi dimenticato Molto bene Ho preso tutto Sono pronto ad andare Merda Ci sta Ci sta Vai Ok Ok Questo è andato A posto Eh Ok Andiamo Aspetta che può tornare Mamma mia Sto facendo avanti e indietro Però scusate Non è che Ti incazzi Se io faccio una pescatina Proprio al volo Ok Secondo me Non si incazza Ok Perché andiamo a perdere Troppo tempo Vai via 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 Molto bene Molto bene Signor Aspetta Non è che si incazza No Eh cioè È il nostro lavoro È il nostro mestiere Eh Mi scusi Andiamo Dai Allora Beh Eccoci qui Mi invita a scorgere Il vecchio balaniere In piedi sul mollo Lo sta aspettando Aha Quindi Fratellino Sei a casa Niente Finite tutte le Le discordie Mi dispiace così tanto Sono stato uno sciocco Lo siamo stati entrambi Entra Eh beh Gagli ci penso io Niente Adesso farlo fiano Ok Perfetto I due fratelli Si amontanano lungo il mollo Uno dei due Si ferma Per un attimo E si gira verso di te Ah straniero Se trovi altre macerie Da rimuovere Sappi che sto preparando Altri esplosivi compatti Vieni quando vuoi Al vecchio deposito Dei balanieri Ok Quindi Balanieri in pensione Depositevole Ah eccolo qua Ah e mi da sta roba qui Ok Quindi questo Credo che sia per far esplodere robe Per un deposito Ah ok Quale senso che sia il tuo scopo E questi Ah questi costano Ok vabbè Raga Per adesso uno va bene Così intanto lo proviamo Avevo visto qua in zona Una Una roba da far saltare qua Vabbè Aspetta un attimo però Prima vado qua Rischiamo di perderci Tutto il malloppo Allora Mercato del pesce Prima cosa Seconda cosa Spendi tutto Terza cosa Eh Eh Bacino calciante Dobbiamo fare qualcosa qua E io avevo del legno Magazzino Vai col legno Così magari mi occupo E vado con gli slottini Vai aggiornamento Quattro spazi nella stiva Fantastico Signori Fantastico Qua me ne manca Aspetta Questo cos'è Ah Uno spazio per il motore Sì Uno spazio per il motore Va bene 75 Quanti soldi abbiamo 114 Rimaniamo con prega di tela Ma va bene Comunque dopo andremo a vedere Eh Adesso Eh Noi non dobbiamo mica riparare niente No 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 Ah invece si ma non abbiamo abbastanza soldi Per quanto Vabbè per 10 centesimi Cioè non è che mi puoi fare uno sconto proprio No eh Marca puttana Cioè 10 centesimi Madonna E la miseria signorina Quanto hai attaccato i soldi Però Porca mina Allora Ma dai Sono 11 centesimi No avevo visto qualcosa qua che si poteva fare esplodere Ah eccolo qua Vedi Vedi che c'è Allora Devo esplodere questo Sì 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 Ah per creare una scorciatoia Va bene Yes Avanti Scorciatoia fatta Sì sì Continua Oh C'è da pescare No non c'è da dragare Oh la madonna Ahà Metallo raffinato E sì Vabbè ma c'è l'altra però Capisci che Oh cazzo Abbiamo un problema Sì Cioè il problema è la telecamera signori Non è che Ok Scorciatoia è un cazzo Poi Eh Vediamo un po' Qua intanto pesco sta roba ma Quanto è che costavano gli esplosivi Perché volevo anche far esplodere L'altra roba di là Eh merda questa l'ho ciccata Non saprei Quanto è che costavano Eh mi sembrano degli esplosivi Vabbè comunque adesso il posto L'abbiamo un po' migliorato eh Però non so qua cosa devo fare Sicuramente c'è da cercare un'arte Fatto Che era quello Eh che ci aveva chiesto di trovare Il Il collezionista Eeeh Ma vediamo Tanto io posso vendere solo qua Quindi Vendi Vendi sta roba 92 Credo che 92 Questo secondo me è un problema Vai 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 Mollo gli ormeggi Vai Eeeh Secondo me è un problema Eh io volevo andarla dentro Vedere se c'era qualcosa Perché sicuramente qua Oh Allora Allora Eeeh Deposito i palinieri Mi serve A quante costano Ah 40 Vabbè te ne prendo giusto Un paio Anzi vabbè Nelle tre Ma sta lì è staccato i soldi Ok Eeeh Mollo gli ormeggi Perché qua c'è Da buttare giù sta roba Dov'era Vediamo cosa c'è qua E poi magari ragazzi Per questi episodi Direi che possiamo anche Salutarci Non era qui Era Qui Qui Allora Vedi che c'era E lì c'è la barca Oh vai Sì 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 Vai vai tranquillo Vai Usare gli esplosivi E che abbiamo trovato Qua di interessante C'è una barchetta Lì c'era qualcosa No Allora c'è da dragare qua Vabbè draghiamo Sai che prima di continuare qua Raga io mi andrei A fare qualche money Un po' Prima del prossimo episodio Perché se no Ah Che è sta roba Ah Vedi che la reliquia scoperta Quindi torniamo Dal collezionista Sì ci sta raga Quindi abbiamo fatto qua Abbiamo finito Ok Però Sì Abbiamo finito Però io mi farei Qualche pescata Random Proprio per Per andare a fare Un po' di money Raga Quindi torneremo Dal collezionista Intanto mi vado a mettere Al sicuro Questa reliquia Perché non me la vado A perdere Assolutamente Adesso che ho spazio Minimentario Posso andare un po' A pesca qua in giro Vendere la roba Riandare a pesca Rivendere la roba Riandare a pesca Rivendere la roba E così via Per tutta l'eternità Signori Noi ci vediamo Con il prossimo episodio Ricordatevi che Di lasciare like Commenti Condivisioni qua sotto Se volete supportare Il canale Farlo crescere Io Sono Leon Trip Purtroppo Questo episodio Finisce qui E noi Ci vediamo Con il prossimo Ciao raga Ciao